Grande attesa ad Eboli questa sera per l'alzata del quadro dei Santi Medici Cosme e Damiano. Quest'anno l'alzata del quadro dei Santi Medici Cosme e Damiano si terrà come di consiedutine questa sera dalla piazza del santuario omonimo. Per gli ebolitani e gli abitanti dei circondati, esse è una consiedutine religiosa da celebrare ogni anno, propedeutica alla festa dei due Santi che ricade un mese dopo il 27 settembre, partendo già dalla giornata precedente con sante messe e camminate notturne di fedeli, anche scalzi che raggiungono il santuario. Difatti l'ostenzione delle sagre e figi viene effettuata giusto appunto un mese prima dalla celebrazione canonica che si consuma come tradizione plurisecolare il 27 settembre. Questa ricorrenza serale del via al mese liturgico intenso, costituito di novene liturgie dedicate ai Santi Medici. Questa sera, dalle ore 19, si svolgerà la celebrazione eucaristica preseduta dal molto reverendo padre Gianluca Savarese, ministro provinciale di Campania, Basilicata, dei frati minori Cappuccini. Dopo la messa si svolgerà la processione con il quadro dei Santi Medici fino a Palazzo Porta Dogana. Per poi, in conclusione, alzare il quadro e posizionarlo all'ingresso del santuario. Invece, domani sera, sempre alle 19, si svolgerà la celebrazione eucaristica preseduta da Sua Eccellenza, Reverendissima Monsignora Andrea Bellandi, arcivescovo primate e metropolita di Salerno, Campania e da Cerno. A seguire la santa benedizione del quadro con l'arcivescovo Bellandi, accompagnato dal sindaco Mario Conte, che successivamente leggerà una preghiera rivolta ai Santi Medici. Saranno quindi due giorni di intensa fede e preghiera per un momento religioso, quello dell'alzata del quadro, propedeutico al 27 settembre, in cui ricate la festa dei Santi Medici Cosme e Damiano, con la processione che attraverserà le strade cittadine.